Buongiorno, sono Josef Alkovesco, ausiliare di Bratislava. Nella conferenza episcopale slovacca sono incaricato di occuparsi dei profughi, in questi giorni naturalmente dei profughi dall'Ucraina. Siamo alla frontiera tra Slovacchia e Ucraina, dove molti enti, anche ecclesiastici, aiutano molto efficacemente a questa gente che deve vivere e sperimentare una grande tragedia familiare. Non solo che devono lasciare le loro case come profughi per fuggire dalla guerra, che è un pericolo per la loro vita, ma devono anche come famiglie staccarsi, perché i padri delle famiglie non possono andare con le loro famiglie nella Slovacchia. Quindi è una situazione veramente molto, molto difficile. Grazie per tutti gli aiuti, per tutto l'appoggio, e anche preghiamo, pregare per noi, per loro, e preghiamo anche aiutare in qualsiasi modo possibile. Grazie, saluti all'Italia.